ciao ragazzi bentornati in questo nuovo video oggi volevo dirmi le mie opinioni sulle gomme metzeller cruistec dopo 10 mila chilometri posso dirvi tutte le mie opinioni tutte le mie impressioni su queste gomme ma prima di iniziare volevo chiedervi di iscrivervi al canale attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati nei miei video anche se non è non le faccio tanto spesso prima di iniziare comunque vai con la sigla allora con queste gomme io l'ho montate quando avevo praticamente 12 mila chilometri alla moto adesso ne ho 22 mila quindi ne ho fatti praticamente 10 mila queste gomme lo compra direttamente su euro import vi lascio qui il link al sito le gomme che mi sono state mandate quella davanti aveva circa un anno e quella dietro invece intorno ai sei mesi quindi diciamo abbastanza nuove come gomme queste gomme io mi sono trovato veramente bene in tutte le condizioni atmosferiche ci sono andato con la pioggia ci sono andato con il ghiaccio ghiaccio in realtà poco però insomma è capitato un momento in cui ho trovato un po di ghiaccio ma loro si sono comportate sempre alla grande sull'asciutto naturalmente non c'è niente da dire gomme fantastiche riesce a piegare in una maniera incredibile e senti proprio la sicurezza quando vai giù quando vai in piega senti proprio la sicurezza delle gomme non sto qui a spiegare troppi tecnicismi su queste gomme perché tanto comunque troverete in tutte le informazioni possibili immaginabili sul loro sito su altri tutorial che hanno fatto su youtube naturalmente come sapete dietro sono bimescola davanti no e devo dire che veramente avendo questa moto soprattutto sulla aderese che ha una coppia di newton 155 all'incirca la potenza quando viene quando do gas all'improvviso scaricata a terra è fantastica loro rimangono veramente proprio attaccate fanno leggermente sgommata all'inizio ma poi subito prende il grip e la moto schizza via soprattutto nel bagnato che diciamo la cosa più importante che una gomma deve tenere perché il bagnato si sa che è più facile scivolare grazie anche all'aiuto comunque del rabbi white skull mettendolo in modalità rain la moto è veramente sicura con queste gomme è una cosa incredibile attaccata in terra senza nessuna paura e questo è molto importante quando hai moto che ti dà quella sicurezza in modo da stare tranquilli mentre mentre viaggi oltre al discorso della tenuta di queste gomme molti di voi mi hanno chiesto ma come hai fatto a colorare queste gomme con cosa ha usato per colorare le scritte le gomme beh ragazzi molto semplice se te lo fai a moto montata è un po più faticoso perché ti tocca piegarti tocca mettete lì piegato e cominciare a colorare io questo lavoro lo faccio sempre prima di montarle ordinandoli da euro import o da qualsiasi altro altro sito che te le manda direttamente a casa prima di montarle mi arrivo di pazienza e incomincio a colorarle ho usato tire pants vi lascio qui il link ma non so se lo troviamo più pennarello per gomme fatto apposta io ho preso due colori il rosso e il bianco e ho dato tre mani in modo che per tutta la durata delle gomme rimanga più possibilmente diciamo lucido il colore come vedete diciamo che ancora il colore è abbastanza lucido siamo 10 mila chilometri e veramente si è scolorito veramente poco vi faccio vedere comunque la qualità ancora di questo pennarello su queste gomme come vedete ancora il colore è abbastanza diciamo mantenuto in maniera ottimale vedete io ho fatto proprio tutta la curazione precisa precisa avere la possibilità che le gomme siano meno sciupate possibile naturalmente sulla parte davanti essendoci freni con la polvere dei freni e tutto un po è più sporca quindi qui davanti è un pochino più un problema in conclusione queste gomme mi sono trovato veramente bene dopo 10 mila chilometri posso dire che sono veramente soddisfatto e sicuramente saranno le prossime gomme che comprerò l'unica cosa che posso dire non so se derivato dal fatto che lo comprate online e magari sono state mantenute in maniera un po diversa oppure il mio modo di guidare che in realtà è abbastanza aggressivo con questa moto qua c'è poco da fare ti viene voglia di dare gas quando vado a piegare verso destra sento che la moto fa un po più di forza perché probabilmente la gomma davanti è consumata in maniera sbagliata me ne sono accorto spesso di questa cosa in autostrada perché volendo lasciare leggermente le mani dal manubrio ho notato che il manubrio comincia a fare così comincia a vibrare tutti mi hanno detto i ragazzi che conoscono anche qualche meccanico mi hanno detto che probabilmente è proprio questo problema qua perché la gomma è diciamo è consumata in maniera omogenea e quindi il manubrio tende a fare un po di queste vibrazioni questa cosa qua mi è capitato proprio adesso che le gomme stanno andando sono quasi finite praticamente quando io ho comprato la gomma mi ha dato subito sicurezza e la guida era veramente spettacolare rispetto alle michelin scorcher di primo epico aggiamento che era in questa moto qua veramente un pianeta in più quindi ragazzi io ve le consiglio al massimo queste gomme soprattutto per i softel per moto un po più pesanti naturalmente rispetto ad altre marche blasonate tipo michelin oppure biggestone o altre hanno una durata leggermente inferiore ma sicuramente sono molto più performanti per chi ha una guida un po più sportiva e ha voglia di avere un po più aderenza queste gomme sono veramente fantastica le metterei come simile alle avon come come gomme e niente ragazzi come ho detto all'inizio se il video vi è piaciuto vi prego di lasciare un like in questo video se volete commentare e magari darmi un consiglio voi sulle vostre gomme che avete scrivetemi sui commenti quale gomme mi consigliate io di sicuro vi consiglio le Metzeller Crystek bene ragazzi ci vediamo al prossimo video grazie ancora ciao